buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul canale youtube della lucerna di cronos per un nuovo interattivo un interattivo su richiesta prima di iniziare voglio fare alcuni ringraziamenti voglio ringraziare giulia che si sta occupando con me di portare avanti la pagina facebook della lucerna essendo io un po allergico a curare le pagine facebook ma voglio anche ringraziare lisa un'amica carissima che ho conosciuto qualche mese fa e che mi ha fatto un grande favore quindi ho detto non ha voluto niente in cambio ho detto vabbè almeno un ringraziamento nei video della lucerna te lo faccio quindi elisa grazie è appena possibile ci incontriamo ci prendiamo un caffè insieme veniamo all'interattivo qualche giorno fa c'è stata una persona sotto un mio video un mio utente che mi ha chiesto di fare una mi ha chiesto di fare una lettura su un tema particolare ha detto vorrei sapere se la persona che ho in mente pagherà per il male che mi ha fatto ok io ci ho ragionato un attimino sopra promettendo di fare il video ovviamente e ho detto sì però prima vediamo se pagherà quindi le nostre tre versioni oggi si articoleranno così faremo col dermatic tarot una prima tirata di cinque carte a croce semplice per vedere se la persona pagherà nell'eventualità qualunque sia il risponso sia che paghi o meno andremo a vedere poi col night sun tarot come e pagherà e se non pagherà perché non pagherà infine con l'ancient femminile wisdom andremo a dare un consiglio un consiglio iniziale ve lo do io anche comunque se avete la bontà di ascoltarmi non bisogna fissarci troppo sulle faide non bisogna fissarci troppo sul voler male a qualcuno non bisogna fissarci troppo sul dare energie malate avvelenate o compromesse verso qualcuno perché poi non tanto per ritorni legge del tre che peraltro io non ci credo quindi quanto perché noi stessi generiamo e ci nutriamo di quelle energie che non sono limpide e quindi di conseguenza andiamo ad avvelenare principalmente noi stessi quindi non è mai consigliabile vivere dentro a una corrente di rancore o di odio o di attacco continuo di stato di tensione continua in fondo spesso e volentieri magari le persone possono comparire nella nostra vita anche per darci lezioni che dobbiamo imparare quindi è necessario si rende necessario piuttosto che desiderare che qualcuno paghi si rende necessario magari capire il perché gli abbiamo permesso di farci del male ecco questo secondo me è prioritario però al di là di questo mi è stata fatta una domanda io a questa domanda vado a cercare di dare delle risposte le risposte sono identificate come mi sembra di averlo già detto dalle nostre tre varianti la prima è rossa la seconda è gialla la terza è verde bene io vi do qualche secondo e intanto inizi a preparare i mazzi allora variante 1 segnalino rosso vediamo se per chi ha scelto la variante 1 chiunque abbia fatto del male a chi ha scelto la variante 1 pagherà per ciò che ha fatto vediamo se chiunque ha fatto del male ha fatto soffrire chi ha scelto la variante 1 pagherà per il male che ha fatto accipicchia si pagherà allora qui direi di sì per chi ha scelto la variante 1 diciamo che è una persona che ha fatto del male senza risparmiarsi può aver creato anche dipendenza con un diavolo contrario ma può anche avervi colpiti sul lato finanziario quindi qua non necessariamente può essere una persona che ha agito sul sentimento o comunque sulla vostra buona fede qui è una persona che ha probabilmente agito anche sulla materialità quindi può essere la classica coppia che si ne che si che si divide e uno riesce a prendersi la casa riesce a prendersi oppure dei benefici economici ma può essere anche un lavoro perché comunque la stella un cammino di realizzazione c'è da dire che con la stella in in favore si può parlare anche del classico me lo sentivo ma come del classico da parte di questa persona lo stavo programmando lo stavo sicuramente un grande un grande o una grande imbonitore perché ha un mago quindi una persona che sa vendersi bene che sa che ha più facce che ha che riesce a rincoglionire scusatemi il termine l'altro dai discorsi che che raggira che promette non mantiene che che non dice il vero non sai mai quando lo dice quindi qua una persona che ha giocato sporco un po su tutti i fronti può essere l'amore ma può essere anche altri e ripeto qua c'è proprio e l'accezione è molto ampia perché poi comunque il mago è colui che ha gli strumenti della grande opera quindi comunque potrebbe essere anche un qualcosa che è nato sotto i migliori auspici e poi non si è concretizzato per dire un contratto di lavoro a cui è stato promesso un rinnovo ma poi in realtà non c'è stato oppure una storia che si è andata a concludere non in seguito a intrusioni di terzi perché e forse il diavolo in contrario lo potrebbe dire però in realtà qua c'è veramente proprio una persona instabile quindi quasi pagherà pagherà sì quasi sicuro perché comunque in questo momento la fotografia dell'attuale persona è in ruota di fortuna quindi comunque un momento in cui si sta sta cambiando il destino sta cambiando il fatto magari questa persona non ha ancora trovato una sua dimensione fissa ripeto o emotivamente o lavorativamente o qualsiasi altro sia il tema della domanda e in fondo alla torre la torre non tanto al di là della della lettura catastrofica che molti cartomanti fanno significa un necessario rivedere le proprie convinzioni vedere crollare le proprie strutture strutture scusate specialmente riferimento appunto a maschere questa persona ci vive con le maschere quindi in realtà qui crollerà un po la maschera di questa persona e sarà messa a nudo di fronte a tutte le sue porcherie di qualsiasi tipo siano ripeto quindi la risposta per chi ha scelto la variante a e si vediamo come questa persona pagherà quindi diciamo come pagherà in che modo la persona che ha ferito chi ha scelto la variante a pagherà per il suo comportamento in che modo la persona che ha ferito chi ha scelto la variante a pagherà per il suo comportamento ok ok vediamo se riesco a farceli entrare ancipicchia allora come pagherà qui pagherà in una maniera abbastanza abbastanza forte perché comunque mi va a chiudere con un 5 di bastoni ma andiamo per ordine dunque lui mi parte o lui o lei che sia mi parte da un appeso quindi in questo momento sta già iniziando a pagare è una persona a cui il destino ha già presentato i conti perché comunque l'appeso è una carta di fermo ma di purificazione purtroppo la purificazione non è mai indolore diciamo che è una carta che parla di affaticamento parla di pesantezza parla di confronto osservato con ciò che siamo dentro quindi con la nostra intuitività quindi la discesa dentro di noi ma l'affaticamento non è solo interiore qua non c'è solo un affaticamento interiore qua c'è anche un affaticamento esteriore perché il tipo di energia che questa persona va a smuovere è sintetizzato da un 10 di bastoni il 10 di bastoni è proprio la carta dell'affaticamento cioè una persona che sta vivendo con una pesantezza veramente 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 forte e in questo momento gli è precluso qualsiasi nuovo inizio e probabilmente il mago contrario mi fa pensare anche che molti dei doppi giochi di questa persona se si tratta di una persona che era abituata a dire bugie o comunque a raggirare o comunque a ciarlare un po' parole e poi magari innegarle il giorno dopo quindi una persona anche abbastanza incostante in ciò che diceva probabilmente già è stata smascherata dalla gran parte delle persone che gli circolano intorno se si tratta di un ex partner addirittura potrebbe anche essere in via di rottura con una nuova situazione in cui sperava di poter perché la nuova situazione la vedo quassù sul 2 di coppe che mi rappresenterebbe un equilibrio del sentimento quindi la polarità, l'integrazione, l'amore che viene governato dalle affinità purtroppo però questa persona ha un papa nel futuro quindi i conti con le sue radici dovrà farle nel bene o nel male e nonostante tutto questa persona comunque sia non molla la presa perché comunque vedete che ha un 7 di coppe nel passato quindi l'illusione, la fantasia è una persona molto illusoria molto adusa a raccontarsi le cose e a crederci quindi è una persona con una profonda fantasia creativa che influenza se stessa e gli altri girandoli anche a parole però la stessa illusione mi viene con la stella c'è una profonda affinità fra il senso della stella e il senso del 7 di coppe il 7 di coppe è una carta di illusione, di fantasia, di fuga dalla realtà per rifugiarsi in un mondo ideale, standardizzato, idealizzato che però non sempre corrisponde al reale perché in questo mondo standardizzato si tende a dare ruoli alle persone che poi in realtà non sono quelli che le persone hanno e quindi in realtà si tende anche a vivere con vedute ristrette sulla base delle proprie convenzioni e delle proprie ispirazioni e dei propri sogni che puntualmente sono destinate a infrangersi quando l'altro o l'altra in ogni tipo di rapporto ci fa capire che forse esistono anche altri modi di vedere le cose quindi qua questa persona ha un profondo conflitto interiore dovuta a una sua chiusura mentale che esprime tramite essere chiusa in se stessa e rapportarsi al mondo attraverso la menzogna attraverso il rigiro di parole attraverso come abbiamo detto prima però questa situazione sta iniziando a pesare e c'è la possibilità, dicevo prima che se questa persona attualmente ha altre relazioni altre frequentazioni nelle quali ripone un attimo di fiducia vadano sì a concretizzarsi però devono passare da un giudizio che è quello della propria radice interiore quindi della propria vera essenza e quindi di conseguenza sono destinate a scontrarsi con un dogmatismo, un autoritarismo che va a fermare fondamentalmente si potrebbe dire che la carta del mago in un certo senso va a come posso dire a promettere un po' quello che sarà il giudizio del Papa cioè di dire tu hai gli strumenti per raggiungere una saggezza però li stai usando male quindi quando ti troverai a fare i conti con questa saggezza sappi che ciò che hai seminato prima in effetti l'appesa con la carta di semina ti tornerà tutto indietro quindi questa persona qua sta ripagando più o meno con la stessa sofferenza che è inflitto a voi quindi comunque tutto questo rigirare tutto questo menzognare tutto questo veder crollare illusioni sta ripagando in maniera anche molto 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 forte ovviamente è una persona che avendo un appeso è molto 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 chiusa in sé quindi difficilmente trasparirà nel mondo così nel vissuto difficilmente trasparirà a chi non la conosce o non lo conosce bene il suo stato d'animo reale ma per quanti in realtà la conoscono molto bene o la conoscono molto bene qua c'è la presa di coscienza che questa persona sta vivendo un crollo crollo molto lento comunque tuttavia questo ci tengo a dirlo è una persona dicevamo prima che si è costruita un mondo illusorio che dà ruoli che quindi tende anche a manipolare gli altri in base a questi ruoli che dà ed ha come contesto un re di spade quindi comunque il re di spade ci parla già delle prime avvisaglie che questa persona dovrebbe un attimino tenere in sé la considerazione perché il re di spade è proprio quello che ci stava dicendo il papa è la giustizia la giustizia che torna indietro la giustizia che dice ok è il momento in cui io dia il mio verdetto che cosa hai fatto fino ad ora come hai agito fino ad ora qui è quasi una cosa karmica nonostante non escono ruote non escono mondi non escono però ci sta molto qua proprio l'essere ripagati con la stessa moneta con la quale si è fatto soffrire una persona in precedenza sembra quasi un copione che si va a ripetere perché poi torno a dire qua si ripete il passato quindi tutte le illusioni che ha creato tutte le promesse fatte tutte le parole non dette tutto l'inganno si va a riversare in questa persona con la stella il problema è che questa persona lo stesso inganno che ha promosso a voi adesso è diventato il suo inganno quindi è caduta vittima dei suoi inganni però l'incontro con la giustizia è prossimo e il papa che poteva essere un'occasione di salvazione si muta in un re di spade quindi il contesto è un'arta appunto di giustizia quindi un potere che arriva a decretare una giustizia alla luce di come abbiamo agito diciamo che c'è poco da dire sul discorso del re di spade un po' tutte le interpretazioni vertono su figure comunque che esercitano un tipo di giustizia o di potere nei confronti di qualcuno quindi in realtà qua il contesto c'è poco da analizzarlo c'è da soffermarsi un attimo prima di proseguire sul 2 di coppe che comunque è una carta che ci dice che alcuni tentativi di andare oltre i danni che ha creato questa persona li ha fatti tentativi anche abbastanza maldestri perché nonostante essendo il 2 di coppe una carta, ripeto, di ottime il 2 di coppe è una carta di ottime 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 premesse per quanto riguarda l'integrazione, la pluralità l'amore addirittura quindi qua potrebbe esserci un sentimento l'affetto, la coppia il brindisi tuttavia nemmeno una carta importante come il 2 di coppe riesce perché esce come risposta ipotetica quindi in realtà noi diremmo che sarebbe un trionfo per questa persona se qua avessimo una carta buona ma qua purtroppo abbiamo purtroppo dipende dal punto di vista abbiamo un 5 di bastoni quindi in realtà abbiamo una carta che parla di perdita quindi questo è ciò cui la persona mira questo è il potenziale della stella in positivo cui questa persona mira e allo stesso tempo è ciò che secondo i piani di questa persona dovrebbe succedere ovvero rifarsi una vita a spese di tutti gli inganni precedentemente fatti che ripeto qua sono andati anche molto nel materiale perché poi il matto il mago scusate è una persona proprio legata alla materialità alla materia e quindi di conseguenza essendo legato alla materia scusate è una persona che manipola la materia quindi probabilmente qua l'inganno ha comportato anche perdite materiali le speranze e i timori di questa persona sono il 9 di coppe quindi la realizzazione totale o comunque ciò che prelude alla realizzazione totale una persona che sicuramente ha una sete catavica di successo ricerca un equilibrio ha una visione del suo operato che rasenta quella della giustizia perché dice il mio operato è giusto io ti ho fatto soffrire perché era giusto così perché ha una visione distorta della giustizia questo ce lo va a dire anche un papa posto nel futuro che comunque dovrà dovrà sottoporre l'opera di questa persona a alla luce di quanto ha compiuto ma questa persona è sicura di aver agito bene quindi in realtà non ha remore quindi se qua pensate che la persona pagherà attraverso remore no qua vi dico di no qua è proprio una cosa del destino dice ok hai fatto questo beh beccati qui remore non ne ha assolutamente e andrà a pagare in modo abbastanza anche forte con un 5 di bastoni i 5 sappiamo tutti che sono carte di di conflitto carte di contesa di competizione di lotta sicuramente nel caso di bastoni potremmo parlare di una competizione che porta molta fatica perché il bastone sappiamo tutti che è una carta associata un seme scusate associato all'energia quindi comunque pagherà a livello energetico ciò che ha tolto a livello materiale che vuol dire vuol dire che probabilmente non riuscirà a realizzare questa sua cosa e dovrà necessariamente il gioco forza cambiare prima usciva la torre a significare che dovrà tornare sui passi dovrà cambiare atteggiamento perché il 5 di spade gli farà il 5 di bastoni scusate gli farà capire che il suo attuale modo di essere questa stella per quanto dia promesse è comunque associabile a un passato fatto di sette di coppe quindi comunque è limitante la sua visione è limitante dovrà imparare le sue spese soffrendo anche parecchio attraverso appunto sforzi che col tempo magari saranno anche ripagati quindi quando avrà saldato questo debito con voi piccolo grande che sia e con impegno però sarà sarà dura ecco quindi sì la persona pagherà pagherà non riuscendo a vedere soddisfatti i propri disegni dovendo cambiare completamente dovendo imparare una lezione di vita a soldi sonore bastonate forse le stesse bastonate che ha inflitto a voi quindi direi che la prima versione ci può stare alla grande facciamo l'engine femminile e vediamo che cosa ci dicono allora vediamo un po' se chi ha fatto soffrire a quelli che hanno scelto la versione A pagherà per il male che ha fatto vediamo un po' se chi ha fatto soffrire che ha scelto la versione A pagherà per il male che ha fatto sì qui sta dicendo che allora ci possano essere due particolari accezioni di questa carta come vedete i frutti estivi allora qua sta la carta io dicevo una delle poche che mi ricordo mi ricordo mai l'huncher femminile scusate qua sta dicendo praticamente che la persona si pagherà e i frutti sono quelli estivi ovvero c'è ancora una stagione da passare la stagione è quella nella quale questa persona verrà messa di fronte al proprio operato e verrà completamente smascherata anche perché la carta lo mostra benissimo come vedete qua c'è un paesaggio rigoglioso dei frutti però in realtà dietro il paesaggio autunnale quindi è come se fosse anche qui una doppia maschera un qualcosa che un qualcosa di bello di attraente di accattivante che però occulta un qualcosa che già sta cadendo quindi ci dice attendete i frutti dell'estate potrebbe anche darci appunto una scansione temporale potrebbe dirci che entro l'anno entro quindi la conclusione della stagione estiva o l'inizio di quell'autunnale se non addirittura invernale potremmo avere notizia di questa persona che pagherà certamente non avremo notizie tramite questa persona perché qui non vedo comunicazioni qua non ci sono comunicazioni su questa persona comunque pagherà ricadendo nelle sue stesse trappole venendo smascherata o smascherato e sicuramente dovendo essendo costretta a ridimensionare di molto aspettative e oltre alle aspettative anche modo di rapportarsi agli altri quindi sarà una persona messa un po' alla berlina ecco questo sarà il modo in cui pagherà direi che per la versione 1 la lettura è stata estremamente soddisfacente se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare il like di iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ogni volta che caricherò un interattivo o un altro tipo di contenuti detto questo passo alla versione B vediamo dunque per chi ha scelto la versione B se la persona che ha offeso la versione B che ha fatto soffrire quanti hanno scelto la versione B pagherà la persona che ha fatto soffrire quanti hanno scelto la versione B vediamo se pagherà per il male che ha fatto allora qui qui è una persona che ha volutamente fatto del male ma probabilmente lo ha fatto in seguito ad una scelta che perché c'è un innamorato quindi comunque c'è un video l'ha fatto quindi potrebbe essere benissimo il discorso di un triangolo ma potrebbe essere benissimo anche l'aver scelto fra due opzioni che magari vi hanno penalizzato anche a livello lavorativo a livello su qualsiasi fronte ecco diciamo che ha una reggenza di imperatrice quindi anche una persona che ha scelto abbastanza con leggerezza ma potrebbe anche essere una persona che ha agito pensandoci parecchio sì sicuramente perché l'imperatrice è comunque una carta di un qualcuno che cova un qualcosa però che ha subito messo in chiaro la propria scelta cioè ci ha pensato 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 e poi con con estrema leggerezza con estrema senza preoccuparsi delle conseguenze ha fatto la sua scelta scelta che vi ha penalizzati perché è andata a chiudere un ciclo che magari per voi era vantaggioso quindi qua in realtà diciamo che poteva essere un ciclo molto fecondo poteva essere un ciclo sicuramente una persona o comunque un rapporto una storia un lavoro che avevate abbastanza idealizzato potrebbe essere anche qui potrebbe parlarsi anche di un qualcuno con il quale si sarebbe voluto o potuto avere una una storia che con il quale magari si sta cercando dei figli se non addirittura si stava cercando appunto di creare una famiglia prima ancora dei figli ecco qua comunque è un qualcosa che si avviava verso una realizzazione veramente a tutto tondo allora questa persona se vi dovesse dire che pagherà non non sarei mica tanto propenso a dirvelo sicuramente pagherà ma non come e perché volete voi e forse non pagherà nemmeno per quello che ha fatto a voi perché questa persona forse alla fine doveva darvi un insegnamento doveva darvi un messaggio cioè l'universo qua mi fa pensare proprio che si sia concluso anche a livello karmico e qui il carro mi fa pensare che questa persona ormai vada per il suo destino ci sono alcune persone che associerebbero il carro alla marzialità e quindi di conseguenza al desiderio di vendicarsi e vedrebbero il sole come vendetta compiuta però noi in realtà stiamo guardando dalla parte come noi stiamo pensando alla persona non stiamo chiedendo se X riuscirà a farla pagare cara a Y in quel caso sarebbe un sì ma qui stiamo chiedendo se la persona pagherà quindi in realtà qua mi stanno dicendo che la persona sì non avrà una vita certamente facile il carro è una carta sicuramente di realizzazione però richiede molta forza d'animo e molto combattimento però alla fine ha un sole quindi in realtà questa persona lo so che mi troverò qualche dislike qualche utente scritto in meno pazienza in realtà questa persona non pagherà per come volete voi quindi in realtà la situazione con voi è chiusa vediamo di capire di più con con il Night Santa Tarot che cosa allora aspetti vi ho impostato la domanda perché non ero preparato sì possiamo chiedere come mai questa persona non pagherà perché la persona che ha offeso chi ha scelto la variante 2 non pagherà perché la persona che ha offeso chi ha scelto la variante 2 non pagherà allora il diavolo il matto giudizio tutti i maggiori escono il sole l'eremita ci piccia e il mago 7 di bastoni il papa di nuovo il 9 di coppe nella stessa posizione di prima e il 9 di spade allora come dicevo prima non è che non pagherà in un certo senso pagherà ma in maniera molto minore forse nemmeno per ciò che ha fatto a voi o nemmeno per la portata delle cose che ha fatto a voi allora si parte da un diavolo quindi probabilmente la persona come natura non è proprio delle più pulite sappiamo bene che è il diavolo un'energia che rappresenta un'ossessione quindi qui potrebbe anche parlare dell'ossessione del ricordo che questa persona ha lasciato in voi però è mediata da un matto quindi comunque vi sta dicendo che questa energia che voi state mandando a questa persona come dicevo io nell'intro forse non è completamente positiva anche verso di voi quindi in realtà vivete un po' male ecco quindi qua sta dicendo che la situazione sta facendo vivere male male voi e probabilmente sta facendo vivere male anche la persona perché qui in realtà le facciamo il riferimento più alla persona che a voi quindi in realtà anche questa persona probabilmente non è affatto compiaciuta per ciò che vi ha fatto ma magari gli eventi lo hanno costretto o l'hanno costretta a fare una scelta che in un certo modo vi ha portati poi a desiderare che questa persona paghi per ciò che vi ha fatto quindi in realtà qua vi sta dicendo questa persona non è affatto contenta di aver scelto così ma la vedeva un po' come unica strada o comunque la vedeva come strada di realizzazione per se stessa perché poi ha un giudizio qua giù che è una carta di purificazione è probabile che ci vada a dire essendo nel passato essendo comunque il tipo di energia o che siate ancora in contatto con questa persona o che sporadicamente la sentiate o che attendiate notizie quindi in realtà qua il giudizio è una carta di notizie di parole di scambio di parole quindi mi viene da pensare che potreste essere ancora in contatto scusate oppure appunto attendere ancora una una comunicazione da questa persona o almeno una spiegazione di come mai si è comportata in un certo modo beh mettetevi l'animo in pace questa spiegazione non ci sarà perché qua abbiamo un sole quindi nel passato recente questa persona del vostro sole il punto fermo qua probabilmente si tratta di una situazione sentimentale quando parliamo di diavolo c'è anche attrazione fisica carnale oltre che ossessione nei pensieri quando parliamo di sole c'è proprio realizzazione della coppia può essere riferita anche al lavoro certo però diavolo è matto la sessualità e l'attrazione ci stanno bene quindi in realtà qua potrebbe essere andata così quindi col sole che va a dire che questa persona era un po' il vostro centro dell'universo quindi magari forse era proprio questo che dovevate imparare a non proiettare il vostro centro dell'universo esternamente a voi stessi in effetti questa persona ha un cammino abbastanza lungo davanti a sé ha un'eremita quindi comunque invita questa persona a camminare una possibile risposta di un cammino di realizzazione arduo e lungo per questo pagherà prima avevamo il carro detto che richiede sacrifici l'eremita stesso richiede sacrifici ma si appoggia alla sua esperienza che deve essere anche la vostra in questo caso quindi qua in realtà più che veder pagare una persona c'è da capire come mai il destino ha voluto darci una lezione e alla fine avete un mago quindi comunque il prossimo futuro è un nuovo inizio un inizio che va comunque a far sparire a cancellare il ricordo di questa persona quindi in realtà qua voi non avrete nemmeno forse col tempo svanirà anche il desiderio di far svanire questa persona è possibile data la presenza del matto del giudizio e del mago che ci sia anche un chiarimento con questa persona è molto possibile anche perché il contesto è rappresentato dal Papa quindi è un'autorità superiore che permette un chiarimento o comunque permette un confronto come dicevo prima quando mi usciva qua tra ciò che è stata l'opera della persona le sue reali convenzioni e quindi il rapporto a tutto ciò che la persona esprime e al come invece lo esprime esteriormente quindi a come si rapporta con gli altri quindi qua in realtà il chiarimento è molto probabile in tempi lunghi perché avete un'eremita sopra quindi in realtà qua non andate a chiarirvi domani però diciamo che la possibilità c'è ora questa persona ha un sette di bastoni quindi comunque è rappresentata da una carta attiva i sette sappiamo tutti sono carte che parlano appunto del lavoro in corso diciamo ognuno riferito alla propria alla propria al proprio elemento scusate nel caso di bastoni l'elemento è quello del fuoco quindi appunto la ricerca di emozioni il coraggio la volontà di superare ostacoli quindi anche il valore che ne segue dall'esperienza accumulata come diceva l'eremita quindi questa è una persona sempre in combattimento probabilmente in realtà qua potrebbe essere stata la classica storia basata su sesso da una parte e su sentimento dall'altra potrebbe essere andata così non per ridurre tutto sempre alle solite dei soliti tre o quattro argomenti ma sono interattivi nello specifico bisognerebbe fare una lettura personalizzata speranza e timore nove di coppe questo mi fa pensare ancora di più a un discorso di realizzazione sentimentale che però non ci sarà non ci sarà perché il nove di coppe trasmuta in un nove di spade quindi qua si va non si va a vedere concretizzata l'esiderio di vedere pagare questa persona ma si va piuttosto a sapere magari proprio anche dal confronto di una persona che non sta bene probabilmente perché ancora non ha trovato la sua dimensione quindi già ecco la famoso pagamento che però non riguarda prettamente la vostra e che quindi combatte nella vita ogni giorno ma dall'altra parte siamo male anche noi perché comunque non riusciamo il nove di spade parla di perdita di speranza ma anche di dipendenza e quindi come vedete è un ciclo che parte dalla dipendenza del diavolo e arriva la dipendenza del nove di spade quindi in realtà qua penso che ci sia più un discorso di lezione da apprendere per quanto riguarda il proiettare la propria centratura su altri cosa che non si dovrebbe mai fare purtroppo a volte succede specialmente nei primi tempi di un rapporto può dare magari adito anche a incomprensioni che poi vanno a inflazionare l'intero rapporto ci possono nascere delle diatribe incredibili quindi è sempre bene non cercare di fare i pacevi perché altrimenti possono anche dalla volontà più ferrata nel voler fare del bene o nel volersi rapportare bene a qualcuno può nascere un'incomprensione che va a inflazionare pesantemente un rapporto quindi qua in realtà forse è questo che dovete imparare dovete imparare ad essere più più centrati su voi stessi prima di proiettare la vostra centratura su altri considerando anche che magari questa persona è venuta nella vostra vita per farvi capire anche il valore del combattere per se stessi e il valore anche come abbiamo visto nella prima stesura di fare una scelta con consapevolezza e anche a costo purtroppo di far soffrire qualcuno questo è quello che mi stanno dicendo so che mi troverò dei dislike so che il numero degli iscritti potrebbe calare però questo è vediamo un po' cosa consigliate a chi ha scelto la versione 2 lascia andare vabbè già parla di suo quindi comunque già vi sta dicendo lasciare andare lasciate andare questa persona perché si completi questo ciclo non non incapponitevi di sapere se pagherà o non pagherà cioè Demetra la madre del grano il tempo è maturo il grano è falciato lasciate andare poco da dire qua quindi versione 2 mi dispiace se non è andata benissimo se questo video ti è piaciuto lascia pure il like iscriviti al canale e attiva la campanella per essere informato informata di ogni video lettura interattiva che caricherò o di altri contenuti io vi ringrazio e passo alla versione 3 allora versione 3 vediamo un pochino se la persona che ha offeso chi ha scelto la versione 3 pagherà per ciò che ha fatto vediamo se la persona che ha offeso chi ha scelto la versione 3 pagherà per ciò che ha fatto ma ci picchia si parte bene allora anche in questo caso è molto simile alla persona della versione 2 però è un pochino più estremizzata dunque qual la persona pagherà sì però diciamo che qui si fa come si dice in gergo un forfettario perché pagherà non solo per le vostre perché probabilmente è una persona che ha agito allora partiamo facciamolo facciamolo in sequenza così torna meglio dunque è una persona che ha comunque come energia positiva il matto come energia negativa la papessa quindi è probabilmente una persona incostante una persona che ha segreti una persona che probabilmente ama mentire una persona che ci sguazza nella menzogna una persona anche che abusa della sua posizione perché la papessa è una carta legata alla legge poi che sia legge terrena umana eccetera quello c'è poco da alla fine è un abusare di una posizione in più quindi abusa anche di di una menzogna che vi ha detto e continua a ricamarci sopra le due carte sono rette dal diavolo quindi una carta sicuramente sicuramente legata proprio al discorso di 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 dualità quindi anche di doppia faccia ma anche di dipendenza anche di ossessione quindi comunque una persona che non vive bene proprio perché probabilmente è una persona completamente allo sbando usa oggi parlare molto di come si dice come lo chiamano tutti narcisisti eccetera ma qui penso che si vada ben oltre cioè siamo proprio veramente una persona che è incostante primariamente con se stessa quindi in realtà più che pagare per voi sta già pagando per tutto quello che ha fatto allora la lettura è molto ambigua perché questa persona ha un imperatore al momento quindi comunque potrebbe avere sì una carta di stabilità potrebbe avere una carta di di quindi comunque di assestamento una carta che gli garantisce un po' sicurezza se è con qualcuno che vi ha lasciato potrebbe essere magari in una relazione felice eccetera però in fondo ha un mondo e allora il mondo è una carta a doppio taglio il mondo va a parlare sì di una realizzazione però va a parlare anche della chiusura di un ciclo ora c'è da capire se questa chiusura ciclica è data alla questione con voi oppure se è data all'attuale persona perché la domanda verte sulla persona quindi giro un altro paio di carte che voglio vedere a cosa si riferisce il mondo in questa lettura allora devo dare una brutta notizia a questa persona chiunque sia si riferisce proprio al pagamento che questa persona deve fare con voi perché se mi fossi fermato qua senza avanzare dubbi non avrei capito che questa persona probabilmente sta per tornare da voi e è munita di speranze quindi in realtà qua questo furbone o questa furbona che sia forse ha capito quello che ha combinato e vuole metterci una pezza e la sua speranza è quella di metterci una pezza questa è una lettura molto complessa molto interessante qui c'è tanto libero arbitrio vediamo un pochino con night sun allora per chi ha scelto la versione 3 e che desidera che una persona paghi per il male che gli ha fatto come evolverà questa situazione di nuovo la profissi Sì Non mettiamo paura alle persone Allora qua si parte da una papessa Quindi una carta di occulto, di segreto Ma appunto anche di Tirannia esercitata attraverso l'abuso di una posizione Quindi torno a dire Non necessariamente una posizione Legata a Qualcosa di legale Quindi come può essere appunto Un legale eccetera Qua è una posizione nel senso per dire Siamo in una coppia Io ho un altro E tu non lo sai Quindi io ho un vantaggio verso di te Perché ovviamente ti sto mentendo E ti sto ingannando Qua ecco c'è un perpetrare Un abuso di posizione Una veduta più ampia rispetto a questo Quindi ci sono cose non dette Ci sono cose non dette al fine di manicolare Ci sono Insomma c'è tutta la La serie di topoi vari Del rapporto finito Rapporto comunque In stand by diciamo Perché qua non è finito Qua in stand by Che cosa Qual è il topoi maggiore Qual è E il segreto maggiore Qual è È il 3 di coppe Che a prima vista Fa pensare proprio Al classico triangolo Perché Un 3 di coppe Quindi una carta che rappresenta La solidarietà La maternità La celebrazione La gioia di vivere La conclusione felice di qualcosa La celebrazione L'allegria Il godersi il presente Associato a un segreto Può rimandare A un discorso comunque Di una persona abbastanza libertina O abbastanza comunque Non incline a fermarsi In una storia sola Che ha perpetrato Un tradimento ai danni di un'altra Questo sul lato amoroso Ma ci può stare anche Sul lato lavorativo Magari con occasioni Che vi sono state sottratte Comunque c'è sempre L'influenza di un terzo elemento Allora Nella parte precedente Nel passato precedente Comunque le energie di base Sono simbolizzate dalla ruota Quindi comunque Un cambiamento Dovuto anche Appunto al destino Che arriva Ma anche a una chiusura ciclica Chiusura Che voi avreste Magari portato avanti Anche da tempo Perché qua veramente C'è stato Un distacco Forse da parte vostra E sicuramente E sicuramente È una cosa Che comunque Vi ha causato Una grande differenza Perché il vostro Tre di coppe Si è trasformato In un tre di spade Quindi comunque Una carta di Certo evoluzione Ma comunque A costo di grandi sofferenze Solitudine Diffidenza Anche Quindi allontanamento Necessario Per la rinascita Quindi qua L'allontanamento Da questa figura Di papessa Uomo o donna Che sia È stato Necessario Per arrivare A una rinascita Come vedete Il vostro Cammino È Costante Perché da un tre Si passa Ad un quattro di spade Che è La risposta Definitiva Scusate Provisoria Ed è questo Che mi ha spinto A fare la domanda Non se questa persona Pagherà Ma che tipo Di rapporto Può Come può evolvere Perché qui Magari La questione Si è chiusa Sul piano fisico Ma animicamente Non si è chiusa Da nessuna Delle due parti In qualsiasi campo Si stia parlato Il quattro di spade È una carta di pausa Di tregua Ed è quello Che questa persona Sta venendo a dirvi Che lo vogliate o meno Sarete costretti A rifare i conti Con questa persona Diciamo che Ciò Perché questa è una risposta Provvisoria Cioè le direzioni Che potrebbero Prendere la cosa Ciò che questa persona Vorrebbe proporvi È una tregua Una pausa Per quanto riguarda Il futuro immediato Il futuro prossimo È rappresentato Da una carta Altrettanto importante Come sono un po' Tutti i sette Che è il sette Di denari Che ci va a parlare Di sì Una chiusura Un trionfo Una vittoria Però fatta Con la mano in bocca Quindi un qualcosa Che sentiamo Di incompleto Quindi qua Sintetizzando Si potrebbe dire Che questa persona Che vi ha feriti O ferite Tornerà Sta tornando Perché non Non tornerà Sta tornando Per proporvi Una tregua Proporvi Di rivedere Come vedete Questa carta È molto emblematica Rappresenta Proprio la persona Lì E vedete Che sembra Che vi offra Un qualcosa Ma che cosa Vi offre Vi offre Un cinque Di denari Quindi una carta Di impoverimento In realtà Questa persona Sta tornando Da voi Perché Vuole Legarsi Di nuovo A voi Ma Nello stesso Modo In cui Già Precedentemente Ha fatto Quindi per voi Sarebbe estremamente Svantaggioso Vi porterebbe A ripetere Il ciclo Il contesto È un re Di denari Quindi Da Una persona Qui abbiamo Un cinque E un dieci Quindi anche A livello numerico Abbiamo Una carta Che è La metà Di un'altra Quello che vi offre Questa persona Non si smentisce mai Quello che vi offre È un cinque Di denari Cioè Vi raccontanti Dai discorsi Ricchezza Realizzazione Opulenza Investimento Sicurezza Materiale Quindi Se Stiamo parlando Di una relazione D'amore Verrà a Accordirmi Si riprova Perché voglio Comunque Canonizzare Voglio Comunque Sistemare Questa Cosa Voglio Riprendere Perché so Che sei La persona Giusta Per me Però in realtà Nella sua essenza Non è cambiata Assolutamente Tant'è vero Che è una stessa Piena di dualità Abbiamo La papessa Che apre Due tre E poi abbiamo Due dieci In fondo E notate Bene Che il punto Di partenza È un dieci E la ruota Quindi Qua abbiamo Veramente Un ciclo Che si ripete Le speranze E i timori Sono il dieci Di denari Scusate In realtà Qua sarebbe Il re Di denari Quindi Ancora Peggio Perché il re Di denari Rappresenta Tutto quello Che ho detto Prima Ma è Enfatizzato Essendo una figura Di corte Quindi verrà Sicuramente A proporvi Una stabilità E Non Il senso Non cambia Molto Perché comunque Avevamo Il contesto Del re di denari Quindi verrà A proporvi Questo Addirittura Favori Verrà A offrirvi Il suo aiuto Verrà A offrirvi Poi c'è da dire Anche un'altra cosa Sulla persona Di denari E La speranza E il timore Il 10 di denari Ovvero Purtroppo Devo dirvi Che se non state attenti Voi ci ricadete Ma La rivelazione È il 10 di spade Quindi È una sconfitta Allora Dicevo Che c'era da dire Un'altra cosa Sul Re Di denari Il re di denari Può rappresentare Proprio persone Delle istituzioni Quindi qua Potrebbe essere Che la persona In questione O È legata a voi Per motivi Di cause O è legata a voi Per motivi Di Divisione di beni Oppure Per un divorzio Oppure Per un qualcosa Di accordo Come può essere Appunto Un contratto di lavoro Nel caso Non stessimo Parlando di amore Accordo Divorzio Causa Comunque Istituzioni Presenti Anche Nella carta Della papessa Notoriamente Legata Proprio Alle istituzioni Che era uscita Anche Nelle cinque Che avevamo Estratte Quindi qua Potrebbe essere Anche una persona Che di mestiere A che fare Con le istituzioni Quindi un giudice Un avvocato Un poliziotto Un politico Non lo so Ma anche Un qualcuno Che lavora All'interno Delle istituzioni Come impiegato Io ho messo Tutto il maschile Ma voltate pure Quindi qua Potrebbe venire A proporvi O un accordo Che riguarda Un qualcosa Legato a causa Eccetera eccetera Ma potrebbe anche Rappresentare Un po' L'ambito In cui questa persona Si muove Già Ripeto Figurato Dalla papessa Ciò che viene A proporvi E' vantaggioso Unicamente Per lei O lui Che sia Perché In realtà Per voi Non lo è Affatto Infatti Se dovessimo Dare un'altra Lettura Potremmo dire Che qua Voi sceglierete Di non dare Appoggio A questa persona Quindi in realtà Qua Si Pagherà Fra virgolette Perché in realtà Sta già pagando Tornando sui suoi passi Essendosi reso O resa conto Che forse Non avrebbe dovuto Agire così E quindi Di conseguenza Tornando indietro Per metterci Una toppa Su quello Che ha combinato Ma voi Qua Cioè Diciamo Avete una percentuale Di 40% Di caderci Di nuovo Quindi attenzione Vediamo un po' Che cosa Consigliate A chi ha scelto La variante 3 Trasformazione Medusa Allora La trasformazione La possiamo riferire A due casi E' molto simile Alla carta Della morte Del tarocco Questa E può essere Riferita A due casi I casi in questione Sono questi O Questa persona E' trasformata E quindi Comunque Vi sta avvenendo A A dare conto Della sua trasformazione Sta ritornando Sui suoi passi Per farvi capire Che comunque La lontananza Da voi L'ha trasformata Oppure Vi stanno dicendo Si Accogli Il fatto Che questa persona Si sia trasformata Ma sappi Che Si è trasformata Solo esteriormente E quindi Cerca tu Di trasformare Questo rapporto Prendendo le distanze Una volta Che questa persona Sarà tornata E' un po' questo Che stanno dicendo Quindi qua In realtà Vi stanno Fondamentalmente Vi dicono Di tagliare Ecco Forse Questa persona Sta già Fra virgolette Pagando Un po' Quello che ha fatto Perché Ha un po' Di rimorso Un po' Di rimorso Per quello Che è successo E Però purtroppo Come abbiamo visto Dalla stesa iniziale Una persona Che un suo centro Non ce lo ha E che quindi Difficilmente Riuscirà Ad offrire Una sicurezza All'altro Perché si porrà Sempre in maniera Manchevole Si porrà sempre In maniera Viziata Una persona Sempre manchevole Sempre Incompleta Che tenderà Sempre a comportarsi Così Quindi vi mettono Anche in guardia Rispetto a questo Bene Io direi Che la terza versione Può ritenersi Soddisfatta A metà Perché qui C'è molto Libero arbitrio E Niente Se il video Vi è piaciuto Vi invito A lasciare un like Ad iscrivervi Al canale Per ricevere Una notifica Ogni volta Che pubblicherò Un interattivo O che caricherò Un altro video Contenuto Dal lunedì Partiranno Di nuovo Le Le Piccoli interattivi Della carta del giorno Li abbiamo prolungati Per un'altra settimana Poi vediamo Io intanto Mentre finivo Mi sono Avilmente Rollato Una sigaretta E quindi Vi lascio Al Al proseguimento Della serata Vi auguro Buona serata E mi fumo La mia sigaretta A presto Ciao Ciao